Fatto gravissimo. Come comune abbiamo messo in campo tutti gli atti amministrativi necessari per fare chiarezza ed individuare i responsabili. Il giorno dopo la notizia del ritrovamento di un chiodo nella pasta di una bimba alla scuola primaria di Torelli di Mercogliano, il sindaco Carullo ci mette la faccia. Tutto è partito dall'esposto del papà della bimba. L'episodio si è verificato lunedì 30 gennaio. Subito, soltanto dopo poche ore, ci siamo attivati avvisando l'ASL e riservando anche una ramanzina alla scuola che tardava ad informarci dell'accaduto. Io mi sento di poter dire da papà che l'ASL come ha sempre fatto per il passato continua a fare dei controlli minuziosi insieme chiaramente al corpo docente e come sempre anche il sindaco con il comandante dei vicili verrà sovendemente nelle menze come ho fatto per il passato per mangiare insieme ai bambini e rendermi conto della qualità chiaramente degli alimenti che i nostri figli mangiano quotidianamente. Tre le ipotesi che quel chiodo arrivasse dal centro di cottura della ditta, che fosse invece all'interno della scuola magari venuto fuori da qualche impalcatura, che si tratti di uno scherzo tanto infantile quanto di pessimo gusto di un altro bambino. Tutte e tre le ipotesi che adesso sono al vaglio dell'ASL che ieri hanno fatto dei controlli minuziosi all'interno della struttura, ma mi sembra che mi sono sentito con il dottore responsabile, non hanno trovato niente che facesse pensare a qualcosa, a qualche corpo estraneo che potesse essere caduto da impalcatura oppure quant'altro. Intanto nella scuola a bocche cuscite la preside non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali, troppo delicata la questione, ci sono di mezzo minori e prima di sbilanciarci con responsabilità e accuse le indagini dovranno fare il loro corso.